Nel centro storico di Fano è riemersa Fano Infortune. Nel corso di un intervento ordinario eseguito dall'azienda AZSPA sono stati rinvenuti alcuni lacerti ben conservati di basolato ad una profondità di circa 50 centimetri dal piano di calpestio attuale. La scoperta è avvenuta in Viarco d'Augusto a Seviario che ricalca il tracciato del decumano massimo della città romana. I basoli in pietra non locale sono apparsi ancora in assetto originario senza sprofondamenti o cedimenti ma purtroppo vari interventi di età moderna già eseguiti hanno compromesso l'integrità complessiva del piano stradale antico. A lato del basolato in corrispondenza di via dei Martinozzi è stato identificato anche un tratto di marciapiede costituito da grandi blocchi lapidei. A di sopra di questo invece si imposta la fondazione rasata di una struttura muraria di età probabilmente medievale. Riaffiora il passato, riaffiora le origini romane di Fano, riaffiora un tratto di via Flaminia estremamente interessante e riaffiora nell'occasione di alcuni scavi che abbiamo fatto per l'allaccio di un'utenza privata. In questo caso noi abbiamo una dita che ci segue che è la Saciarchio che praticamente ha vinto un bando e ci segue direttamente collegata con la sovrintendenza in tutte le operazioni che noi facciamo in siti particolarmente sensibili o comunque all'interno della città murata. La sovrintendenza subito informata ne ha disposto la ripulitura, lo scavo e la documentazione in forma di saggio archeologico con la collaborazione di Aset. Noi dal canto nostro abbiamo avuto il nulla osta alla conclusione dei lavori, penso che anche per quanto riguarda il disagio dei cittadini è un disagio che avrà breve termine perché domani dovremo, se non ci sono ulteriori problemi, provvedere alla richiusura, alla ritombatura di tutto. Lì questo luogo è singolare perché continuando probabilmente noi abbiamo dall'altra parte della strada una fognatura romana ancora in essere completa e tutto, quindi è interessante che probabilmente lì c'è la continuazione di questo manto stradale e la struttura a schiena d'asino per poter in qualche modo far defluire le acque di pioggia nella vicina appunto Fogna. Come mai dovrete procedere alla chiusura poi del sito? Ma dovremo procedere alla chiusura perché ce l'ha chiesto intanto la sovrintendenza, penso che sia una questione meramente economica nel senso che le risorse che vanno in capo a questi enti sono probabilmente proporzionate alle quantità di materiali e di situazioni che vengono in qualche modo scoperte in Italia. Non era possibile fare null'altro che se non catalogare praticamente quello che è stato rinvenuto e poi fare in modo che comunque gli agenti atmosferici e tutto quello che avviene sopra quel tratto non lo possa danneggiare in maniera né momentanea né rimediabile.